Nuova operazione antidroga dei finanziari del comando provinciale di Sassari che hanno individuato ad Alghero un giovane di 21 anni che aveva trasformato la stanza da letto della propria abitazione situata nel centro storico della città catalana in una serra per la produzione di marijuana. I militari da qualche tempo seguivano le mosse del giovane la cui abitazione era meta di persone alla ricerca di stupefacenti. Un via vai che non è passato inosservata le fiamme gialle che hanno deciso di fare degli appostamenti e quindi di perquisire l'abitazione. Nell'appartamento del giovane i finanziari hanno trovato una serra composta da sei piantine di canapa alte oltre 70 cm in piena infiorescenza. L'impianto era munito di ventilazione, illuminazione con lampade alogene, termostati e temporizzatori, sequestrate anche flaconi di fertilizzante. Inoltre grazie alle unità cinofile i finanziari nell'abitazione hanno recuperato due chili e mezzo di marijuana già pronta per lo spaccio. Un bilancino di precisione, 5.900 euro in contanti, probabile frutto della vendita della droga. Il giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Processato per direttissima dal Tribunale Sassari, è stato condannato all'obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria e all'obbligo di dimora ad Alghero. Processato per direttissima dal Tribunale